Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato. Carissimi fedeli vi do gli avvisi della settimana che è una settimana che è questa particolare perché è centrale nel mese di maggio, siamo proprio al cuore del mese di maggio dedicato a Maria e ci stiamo preparando alla festa di Pentecoste che verrà celebrata il 19 maggio. Oggi sabato 11 maggio alle ore 21 e 30 adorazione eucaristica. Domani domenica 12 maggio alle 10 e 30 Santa Messa. Noi abbiamo già celebrato l'ascensione giovedì scorso, pertanto la domenica, la messa di domani è la messa che viene chiamata domenica dopo l'ascensione. Questo per essere precisi, chi ha il messalino cercherà questo titolo. Nei giorni feriali la messa inizia alle ore 18. Alla sera gli incontri di preghiera saranno il Santo Rosario, da lunedì a venerdì tutti i giorni alle 21 e 30. Sabato invece, sabato 18, che è anche la vigilia di Pentecoste, ci sarà l'adorazione eucaristica alle ore 21 e 30. La vigilia di Pentecoste è una di quelle vigilie che non ha carattere penitenziare ma festivo, nel senso che il nostro cuore sarà in festa quel giorno, nelle nostre riflessioni, nelle nostre meditazioni, nel nostro atteggiamento interiore dovremo riflettere questa consapevolezza di essere stati graziati con il dono dello Spirito Santo e anche l'invocazione per riceverne sempre e per poter essere sempre più docili alla sua azione. Un avviso particolare, se qualcuno avesse l'idea il 13 di maggio, che è lunedì, di venire qui da me deve sapere che c'è un'interruzione della strada e quindi non sarà possibile salire alla Cappella dei Sacri Cuori direttamente da Schio per quasi tutta la giornata. Pertanto, se qualcuno avrà questa intenzione, è bene che scriva a Paola oppure a me un messaggio e noi risponderemo con il percorso alternativo. Indicheremo il percorso alternativo che è senz'altro più lungo, anche un po' disagevole perché sono strade di montagna, però faremo in questo modo. Il problema riguarda soltanto lunedì 13 perché ci sono dei lavori in corso. Negli altri giorni questo problema non c'è. Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato e buona domenica a tutti.